se anche tu non sai da qual iniziare questo video è quello che fa per te questi sono i libri che ho scritto in questi anni alcuni non da solo e andiamo a vedere insieme qual è l'obiettivo di ciascuno di questi libri partiamo il primo il segreto di una memoria prodigiosa è stato il primo libro che ho scritto uscito nel 2006 e va ad approfondire in modo specifico le tecniche di memoria c'è chiaramente una piccola parte anche sul metodo di studio ma la parte rilevante di questo libro che è tutta questa tutta questa parte è specifica sulle tecniche di memoria quindi se questo è l'argomento che ti interessa questo è il tuo libro se questo intendo se le tecniche di memoria sono l'argomento che vuoi approfondire il segreto di una memoria prodigiosa è il libro migliore impara l'inglese in un mese il titolo lo dice da solo è un titolo molto provocatorio ma è un libro da leggere in un mese è strutturato a tappe quindi ogni giorno con determinati esercizi vocaboli da memorizzare e tutto quello che serve per riuscire ad interagire questo è per chi vuole il pesce pescato nel piatto c'è una piccola parte sulle tecniche applicate direttamente alla lingua e ci sono le memorizzazioni già fatte per questo prima ho fatto l'esempio del pesce direttamente nel piatto e non l'abilità di poter apprendere qualunque lingua questo è specifico sulla lingua inglese studiare è un gioco da ragazzi l'obiettivo di questo libro è far sì che uno studente comprenda il metodo e possa applicarlo ci sono esempi su tutte le materie principali che uno studente possa incontrare il target di questo libro sono genitori che vogliono trasferire il metodo ai figli piccoli oppure studenti fino alle superiori perché per quelli dell'università c'è l'evoluzione di questo poi mappe mentali metti il turbo alla tua mente con le mappe mentali questo libro è specifico sul tema delle mappe mentali e vedremo che cosa sono come si costruiscono quali sono gli errori che la maggior parte delle persone fanno e come evitarli e dopo tanti esempi applicazioni dove il metodo delle mappe mentali inventato da Tony Busanna viene applicato nella quotidianità questo libro è molto trasversale perché fa vedere applicazioni delle mappe mentali in diversi ambiti può essere la mamma che deve gestire diverse attività a casa oppure vuole organizzare una festa per l'anniversario per il compleanno del figlio particolare oppure il professionista oppure lo studente questo è l'equivalente però orientato al mondo business quindi se sei un professionista e vuoi capire come utilizzare le mappe mentali in ogni contesto professionale che può essere la gestione del lancio di un prodotto la gestione di un team il problem solving oppure ricordare bene le cose che vuoi dire durante uno speech aziendale allora il potere delle mappe mentali nella gestione aziendale è il libro da cui partire poi abbiamo come leggere un libro al giorno qui c'è tutto quello che ti serve per riuscire a leggere in modo davvero efficiente ed essere una di quelle persone che legge davvero tanto e va ad ampliare la sua cultura grazie alle capacità di lettura molte persone smettono di leggere perché si rendono conto che sono troppo lente a ma la sera dopo non ricordo che cosa ho letto la sera prima e quindi non ha senso leggere è uno dei commenti più ricorrenti e succede quando uno non conosce strategie di lettura efficienti allena la tua mente in cinque minuti questo è un libro da ombrellone da lettura piacevole da fare sul divano per riuscire ad allenare la mente e ci sono due aree sulle quali andremo a lavorare soft skills e hard skills ovvero competenze come tecniche di lettura tecniche di memoria oppure soft skills come la gestione delle motività la capacità di concentrazione tutto attraverso esercizi e giochi che ci permettono di andare a raggiungere quell'obiettivo dopo abbiamo professione studente 30 lodi questo libro nasce da un'esigenza elisabetta un giorno mi dice guarda molte volte gli studenti vengono a ricevimento e non mi chiedono domande sul contenuto dell'esame ma su come studiare come poter trattenere le informazioni e quindi perché non fai l'evoluzione di studiare un gioco da ragazzi da lì è nato questo libro sua l'idea ho detto lo facciamo a quattro mani perché ci tengo che ci possa essere la tua esperienza e la tua competenza su quello che è il dietro le quinte quali sono le cose davvero importanti che uno studente universitario deve sapere e sono importanti per gli occhi di chi è dall'altra parte e valuta come prepararsi ai test universitari questo per chi si avvicina all'università e deve passare un esame un test di ingresso allora questo è il libro su come fare per affrontarlo sempre con il preziosissimo contributo di elisabetta galli pianifica organizza agisci il metodo per gestire al meglio tempo e risorse questo è un libro più per manager professionisti che fa vedere come applicare strumenti mentali come le mappe per riuscire a capire quali sono le attività prioritarie sulle quali concentrarsi e programmarle una delle caratteristiche delle persone estremamente efficienti è quella di concentrarsi sulle priorità e individuare quali sono i momenti più strategici per farle molte persone invece iniziano la giornata senza un vero e proprio piano senza una strategia e quindi reagiscono all'urgenza con il risultato che a fine giornata ci sentiremo molto stanchi e soprattutto avremo la sensazione di aver concluso poco le persone efficienti invece individuano le priorità e le fanno combaciare con i momenti in cui queste attività costano meno queste attività richiedono meno tempo quando uno affronta un'attività prioritaria importante da stanco va a dilatare i tempi per poter essere efficienti e performanti è importante saper pianificare bene le proprie attività e organizzarle all'interno della propria settimana da qui nasce il titolo del libro chiaramente non si ottiene nessun risultato se successivamente non segue l'azione se senti che fai tante cose ma non sei soddisfatto perché vorresti farne di più ma non hai tempo allora questo è il libro da cui iniziare buona lettura